spark video è un servizio gratuito di adobe spark e permette di creare video animati in pochi passaggi e in maniera semplice e intuitiva per poter lavorare basta iscriversi cliccando su start now for free in questo caso io vado direttamente su login ci si può autenticare con gli account facebook google oppure iscriversi tramite la vostra mail una volta autenticati si viene indirizzati alla pagina con i nostri progetti possiamo crearne uno semplicemente cliccando sull'icona del più quindi video spark poi suggerisce di partire da un'idea chiave possiamo dunque partire da un template predefinito oppure cliccando su start from scratch da zero la schermata di lavoro si presenta così abbiamo delle slide da riempire cliccando su più possiamo aggiungerne sulla destra abbiamo i vari sfondi che possiamo applicare proviamo questo cliccando sul più possiamo aggiungere video foto icone o testo mentre tenendo premuto sull'icona del microfono possiamo addirittura registrare la nostra voce per fare una specie di narrazione che accompagni la presentazione oltre agli sfondi possiamo aggiungere della musica di sottofondo ci sono vari temi predefiniti ma si può anche caricare una propria canzone mentre su layout possiamo cambiare la struttura delle slide possiamo caricare delle foto dal nostro computer oppure cercarle su internet i video li possiamo solo caricare dal nostro computer le icone possiamo invece ricercarle da un database per aggiungerla basterà cliccarci sopra e apparirà qui per toglierla basta cliccare su cancella qui in basso a destra possiamo settare la durata della slide singola le slide sono poi interscambiabili fra loro possiamo cliccare quindi su preview per avere un'anteprima e su share per condividere per chiudere l'anteprima clicchiamo sulla x e ora vediamo rapidamente la nostra dashboard basta cliccare qui in alto a sinistra abbiamo tutti i comandi e vediamo un momento l'inspiration gallery che è la raccolta di tutti i lavori resi pubblici dagli altri utenti grazie grazie grazie